Ci colleghiamo col direttore del Fatto Quotidiano, vedo Marco Trevaglio pronto. Buonasera Marco. Buonasera. Ciao Marco, come stai? Bene, bene, tu. Bene, grazie. Allora, senti, intanto da martedì il Fatto cambia veste, quindi insomma è anche a te in bocca al lupo. C'è quasi un aspetto romantico poi nel dedicarsi al cartaceo, non preoccuparsi di cambiare veste, ormai si dice nessuno legge i giornali, invece non è vero. Sì, io sono un inguaribile nostalgico e quindi continuo ad apprezzare quel gesto che trovo meraviglioso di andare tutte le mattine in edicola. Io trovo che l'edicola sia uno dei più bei posti dove si può andare, che uno dei più bei gesti sia quello di prendere in mano un giornale, di sfogliarlo, di piegarlo, di ripiegarlo, metterlo in tasca, riaprirlo, sottolinearlo, strapparne una pagina, conservare una copertina o un articolo che mi piace. Credo che in questa fase, durante la quale non abbiamo più baciato, accarezzato, stretto mani, abbracciato nessuno, forse abbiamo riscoperto il piacere del tatto, almeno nei confronti della carta. Io parlo per esperienza personale, ero terrorizzato quando è iniziato il lockdown, che la gente chiusa in casa non andasse più in edicola. E invece guardavo i dati, almeno parlo per il mio giornale, non so gli altri, e c'era più gente di prima che andava a comprare il fatto e più gente che addirittura si abbonava in digitale. Diciamo che è un momento di grande rivoluzione nella stampa italiana, credo che in questo senso tu sia ancora più convinto delle ragioni che ti hanno portato a fondare questo giornale. Ah sì, perché si parla tanto dei padroni che cambiano, che intervengono, che creano problemi nelle redazioni, spostano le linee. Noi abbiamo la fortuna di non averne, di esserci fatti un giornale per conto nostro e questo naturalmente non è soltanto una fortuna e un vantaggio. Senti, parliamo un attimo, certo, perché se sbagli, sbagli da solo. Non c'è dubbio. Però, senti, parliamo un attimo, abbiamo qui due copertine facsimile che ci hai mandato di come sarà la nuova grafica. Sì, sono due giornali degli ultimi giorni come sarebbero stati con la nuova grafica. Quindi vedremo il fatto così a partire da martedì, ok? Secondo il progetto che ha fatto il nostro art director, che si chiama Fabio Corsi e che ringrazio insieme a tutta la sua squadra e a tutta la nostra redazione che, come tutti quelli che hanno lavorato in questo periodo, hanno lavorato in condizioni molto difficili. Senti, Marco, approfittando della tua presenza, ti vorrei chiedere alcune cose che riguardano l'attualità, evidentemente. In questi giorni occupano molto spazio le nuove vicende giudiziarie, che riguardano la giustizia, le vicende giudiziarie anche della giustizia, le intercettazioni sul caso Palamara, l'ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, consiglio superiore della magistratura, accusato di corruzione. Molte di queste intercettazioni non sembrano avere rilievo penale, ma stanno comunque scattenando diverse reazioni, polemiche, dimissioni. Si leggono notizie e minacce di ogni tipo. Siamo partiti la settimana scorsa con la vicenda che aveva coinvolto il ministro Bonafede e il giudice Di Matteo. Insomma, cose tutte molto diverse, ma che hanno un denominatore comune, che è appunto la giustizia e la magistratura. Che cosa sta succedendo? C'è un malessere evidente? È una tempesta passeggera? Che cosa sta accadendo? Tu che queste cose le conosci. No, non è una tempesta passeggera, è una serie di metastasi che sono arrivate praticamente dappertutto. Senza che noi ce ne accorgessimo negli ultimi anni, la magistratura si è molto, molto involuta, si è molto inquinata. Hanno prevalso logiche di spartizione, di guerre per bande, sete di potere. Devo dire che la politica è riuscita, più ancora di quanto non fosse riuscito a fare Berlusconi, che in qualche modo la magistratura la compattava per opposizione, la politica dopo Berlusconi è riuscita con delle riforme assurde a rendere la magistratura molto simile alle guerre dei partiti. Queste guerre di correnti sono ormai, sembra che non si salvi nessuno, o se ne salvino pochissimi, e quindi penso che sia necessaria una riforma molto drastica, ma non tanto del CSM, perché poi anche se li sorteggi nella situazione in cui sono, quelli si vendono immediatamente al migliore offerente. Secondo me dovrebbero proprio riformare il sistema delle procure, che sono nelle mani di pochi capi. Invece il potere diffuso dei pubblici ministeri singoli è l'unica garanzia affinché una notizia di reato vada a finire, se lo merita a processo, senza che un capo possa dire al suo sostituto no, questo no. Perché questo è contrario all'obbligatorietà del sistema penale. Tu hai scritto un editoriale sulla polemica fra il giudice Di Matteo e il ministro Bonafede, in cui hai cercato di descrivere, di comprendere, quelle che sono stati anche alcuni, diciamo, probabili equivoci. Rimane il fatto che Di Matteo è un giudice importante, Bonafede il ministro. Ecco, tu pensi che finirà così o ci saranno conseguenze, inevitabilmente? Io spero che quando si depositerà la polvere di questa polemica le due persone, che sono persone per bene, facciano quello che Giancarlo Caselli, Salvatore Borsellino, proprio sulle colonne del Fatto Quotidiano hanno loro consigliato, cioè vedersi, chiarirsi e fare pace. Perché sicuramente Bonafede ha sbagliato nella nomina del capo delle carceri, non ha certamente fatto quell'errore perché fosse spinto da boss mafiosi o da interessi esterni. E dall'altra parte Di Matteo ha visto talmente tanti complotti ai suoi danni e ai danni della giustizia veri che probabilmente ne ha immaginato uno che non c'era. E quindi l'unico modo perché questa storia finisca è che le due persone si vedano e si chiariscano con calma. Tu pensi che il governo reggerà? Qui entriamo nell'angolo dell'oroscopo. Beh, guarda, oggi il presidente Prodi sul messaggero dice è evidente che il governo, salvo cose clamorose, reggerà. Dopo questo voto di fiducia è evidente. Tu condividi? Ma sì, la logica direbbe questo. In un momento in cui non si può nemmeno votare per le elezioni regionali ancora per qualche mese, per il referendum costituzionale ancora per qualche mese, in cui non c'è una maggioranza alternativa pronta e in cui comunque questo governo con tutte le sue debolezze e le sue zoppie ha dato prove migliori rispetto alla gran parte dei governi europei e internazionali nel gestire questa crisi, che da noi è stata più grave rispetto ad altri paesi e che l'abbiamo dovuta cominciare ad affrontare prima, senza avere modelli democratici da seguire, facendo quindi noi da apripista agli altri, io penso che la logica dovrebbe dirci che ce lo dobbiamo tenere questo governo, dobbiamo continuare a criticarlo e a spronarlo, ma a mantenerlo. Però, naturalmente, contro la follia di certi politici non c'è previsione o monito che tenga. Se ti avrei ancora un paio di domande da farti, se tu puoi rimanere, però devo mandare la pubblicità, puoi rimanere? Certo. Allora, mandiamo la pubblicità e poi ritroviamo Marco Travaglio. Marco Travaglio, dunque Marco, hai sentito? Malagò prima ha detto che i mondiali di sci a Cortino saltano, andranno al 2022, è una notizia importante. e volevo farti vedere questo filmato qua, questo Rwm della settimana in Parlamento. Possiamo mandarlo? Grazie. Il Senato non approva. L'Aula respinge le mozioni di sfiducia di centrodestra e più Europa nei confronti del Ministro della Giustizia. Ci furono condizionamenti? Ancora una volta, no. Chi lo sostiene se ne faccia una ragione. Signor Ministro, faccia il Ministro della Giustizia, non il Ministro dei Giustizialisti, e vedrà che ci avrà al suo fianco. Colleghi, colleghi, colleghi. Il dibattito in salita fin da subito è incendiato dall'attacco che Ricciardi 5 Stelle indirizza le autorità lombarde. L'ospedale per cui hanno speso 21 milioni per 25 pazienti. Ecco come sono stati spesi i soldi delle tasse e dei cittadini lombardi. Rebutato Ferrari, rebutato Ferrari. Il presidente del Copa Sir Volpi batte la mano sul banco del presidente Fico. La pausa clacca a malapena gli animi. Credo che la pagina che abbiamo vissuto pochi minuti fa in quest'aula sia uno dei momenti più bassi della storia repubblicana. E vede, sì, in effetti fa venire da piangere anche a me. Guardi, presidente Meloni, noi abbiamo idee diverse. È legittimo che lei non la pensi come la ministra Bellanova. Ma che lei da donna a donna attaccasse la ministra Bellanova sulle lacrime proprio non me lo sarei aspettato. Marco, si sta scherzando col fuoco secondo te? Noi abbiamo sentito dire più volte giustamente che il Parlamento è il centro della nostra democrazia, che è una democrazia parlamentare, quindi tutto il dibattito sui decreti, eccetera. E poi però, purtroppo, vediamo quando si riunisce il Parlamento scene come quella che tu hai mostrato. Per cui, ancora una volta, l'antiparlamentarismo sembrano seminarlo i parlamentari. Poi le situazioni che tu hai mostrato erano molto diverse. Certo, no, no, ma certo. A me ha colpito il fatto che un parlamentare non possa criticare la gestione della sanità non da parte dei medici e degli infermieri o dei cittadini lombardi, ma da parte dei responsabili di un sistema sanitario come quello della Lombardia, che è chiaramente fallito e ha perso completamente il controllo dei contagi. Poi abbiamo visto, diciamo, chi è il rappresentante della sanità lombarda e come parla, l'hai appena mostrato tu. E quindi dove dovrebbero parlarne i partiti del modello sanitario, cioè di chi ha in mano la salute dei cittadini se non in Parlamento. La nostra Costituzione ha addirittura previsto un'immunità speciale per le parole usate in Parlamento, proprio perché in Parlamento è riconosciuto un diritto di critica superiore a quello che è riservato a noi comuni cittadini. Se non è lì che si fa il dibattito, dove si deve fare? Poi uno può discutere sui decibel, però è chiaro che se tutti ti gridano addosso tu devi alzare la voce. L'importante è sentire quello che si è detto, che era tutt'altro che scandaloso. La domanda, no, ma credo che l'imprecisione fosse che quelle non erano tasse, ma erano donazioni di privati, ma rimane il tema, no? Prima Carlo Verdelli ha detto, in questa trasmissione appunto, ci aspettano mesi difficilissimi e ci vuole quindi una classe dirigente all'altezza della situazione. Questa era la domanda, in realtà, che sottintendevo. E la seconda e l'ultima considerazione che ti volevo fare è proprio quella sulla sanità lombarda. Cioè, che cosa non ha funzionato? Ma al di là delle polemiche, diciamo, politiche che non interessano in questa fase, cioè, secondo te che cosa non ha funzionato? Davvero il modello di mancanza di sanità sul territorio, come tutti dicono, un errore, una sottovalutazione, i focolai negli ospedali, che cosa è successo? Il punto di partenza è, ovviamente, due focolai che sono esplosi dentro gli ospedali e che hanno immediatamente fatto impazzire la situazione. Ma quando la situazione impazzisce e c'è un, diciamo, un cuscinetto formato da un sistema sano con un numero adeguato di terapie intensive e con un'organizzazione della sanità sul territorio, tu quella situazione di emergenza la gestisci. In Germania 28 mila posti di terapia intensiva con 80 milioni di abitanti. In Italia, con 60 milioni di abitanti, 5 mila posti di terapia intensiva in tutta Italia. Allora, la domanda è questa è la normalità a cui vogliamo tornare? Io credo che sia fondamentale fare tesoro di questa esperienza per renderci conto che Italia alla sanità contemporanei al trasferimento del 40-50% del bilancio sanitario regionale Lombardo alle cliniche private che quasi mai fanno terapia intensiva perché non è abbastanza remunerativa, sia una follia. Quindi questa cosa ci deve insegnare che quello che vivevamo prima non era la normalità e quello a cui noi dobbiamo tornare non è quella situazione che avevamo prima perché quella di prima non era una situazione normale e allo stesso modo non possiamo permetterci 120 miliardi di evasione fiscale all'anno perché lì abbiamo visto che l'evasore non è un furbetto, è un assassino. È un criminale, come abbiamo detto mille volte. Sottrae, ma produce anche dei morti perché se avessimo avuto i posti letto per tutti quelli che ne avevano bisogno tanta gente che è morta a casa dimenticata sarebbe sopravvissuta o almeno avrebbe avuto le cure necessarie per essere accompagnata al passo di addio. Quindi questa situazione purtroppo esplose in Lombardia e la Lombardia è diciamo la caricatura di una situazione anormale che ha depauperato la sanità pubblica per portare i soldi al privato per fare i tagli e destinare i soldi ad altre cose TAV, Torino, Lione e altre scemenze tanto per dirne una che probabilmente andrebbero ripensate proprio alla luce dell'emergenza e del fatto che questa crisi ci ha fatto capire che dobbiamo rinunciare al superfluo dobbiamo tagliare tutto quello che non serve e concentrare quel poco che abbiamo nelle cose utili e urgenti che riguardano la nostra vita e la nostra salute. Grazie Marco in bocca al lupo al nuovo fatto quotidiano di martedì della nuova grafica e buonasera e viva il fatto Grazie